Questo è il terzo episodio che avviene nel nostro territorio, sono tre bombe che sono esplose, due di fronte all'abitazione e la mia, questa bomba qua, al portone della chiesa. L'idea che mi son fatto è che siamo dei preti che si occupano di Caritas in territori difficili e quindi l'ho interpretato come un avvertimento, quasi che qualcuno volesse dirci calmatevi, ritiratemi, una cosa di questo genere. Un impegno forte anche nei confronti dei rifugiati, degli immigrati, può essere anche questo un motivo? È un altro motivo, però noi abbiamo avuto questo rapporto molto bello con questi ragazzi che abbiamo accolto, non hanno dato disturbo in città, stiamo integrandoli, progettando un lavoro per loro, quindi in qualche modo siamo pacificati, non siamo motivo né di rabbia né di nulla.